Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati, oggi è il 26 di ottobre e come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz, l'unico social network dedicato agli investimenti. Sul nostro sito infatti avrete la possibilità di poter scrivere i vostri articoli o commentare quelli degli altri o entrare per esempio all'interno di discussioni piuttosto accese come quella su Sterlina Dollaro che andremo a vedere durante questa videoanalisi. Ma questa è una settimana piena di dati macroeconomici, la settimana scorsa si è chiusa con la conferenza stampa di Draghi nella giornata di giovedì che ha dato forza al dollaro americano contro l'euro o meglio Draghi ha tolto forza all'euro e quindi il cross euro-dollaro si è indebolito in maniera molto forte arrivando fino ad area circa 1,10 e questo è stato dovuto sostanzialmente al fatto che Draghi ha parlato di un quantitative easing più forte e più lungo nella durata già appunto dai mesi prossimi. Quindi insomma questo è quello che è successo, però non finisce qui perché come vedete domani inizierà il meeting del FOMC quindi della Fed e quindi ci sarà la risposta da parte della Fed nella giornata di mercoledì appunto in serata. Poi questa settimana non si conclude con la Fed perché avremo anche il GDP che sta per Gross Domestic Product che significa di fatto il PIL degli Stati Uniti d'America insieme ai jobless claims e ad altri dati macroeconomici di particolare rilevanza. Di conseguenza che cosa ci attendiamo sul mercato delle valute o in particolare sul mercato che comprende anche gli indici in questo caso? Sul mercato delle valute abbiamo selezionato alcuni cross particolarmente interessanti perché? Perché siamo convinti che dopo la mossa di Draghi in qualche modo la Fed farà una sua contromossa ovviamente sappiamo che la Fed non ha nessun interesse a diciamo ad avere un dollaro forte in questo momento né ad alzare i tassi già nella prossima riunione. Quindi che cosa farà a nostro avviso? A nostro avviso cercherà di prendere tempo e quindi lascerà i tassi invariati. Questo indebolirà il dollaro americano ma solo fino a mercoledì pomeriggio. Quindi ci attendiamo una volatilità contenuta all'interno diciamo di questi giorni fino al FOMC. Dal FOMC ci aspettiamo un dollaro che perde un po' di valore per poi recuperarlo nei giorni successivi. Quindi queste saranno tutte ottime occasioni a mio avviso per shortare euro dollaro nei prossimi giorni qualora dovesse raggiungere nuovamente i livelli tipo di 1 e 12. Nel frattempo però possiamo lavorare su altri due cross che scambiano con short dollaro. Ci sono in particolare Audi USD sul quale avevamo aperto una posizione rialzista. A mio avviso questa è una posizione che potrà darci degli ottimi risultati. Penso che il livello di 0.73 verrà raggiunto in maniera piuttosto veloce e questo è un cross che io ritengo sia assolutamente da mantenere in portafoglio dopo l'inversione che vedete qua delle ultime settimane, dell'ultimo mese. Quindi vedete che comunque c'è stata un'inversione su Audi USD. Discorso analogo per quanto riguarda GBP USD, mischiero insomma dalla parte di chi è rialzista almeno fino a mercoledì, nel senso che secondo me in questi giorni il dollaro perderà un po' di valore anche grazie a quello che emergerà appunto dal meeting della Fed che a mio avviso non rialzerà i tassi di interesse già dopo domani e quindi anche in questo caso ci saranno possibilità di vedere euro, scusate, sterlina dollaro al rialzo che possa appunto toccare livelli interessanti come quello di 1.54 in tempi abbastanza rapidi. Quindi sono due posizioni che vi esorto a mantenere in portafoglio. Quindi di fatto per riassumere un po' l'operatività l'idea è quella di mantenere diciamo posizioni anche contro dollaro e non soltanto in acquisto di dollaro come abbiamo fatto con questo piccolo lotto euro dollaro che abbiamo short e che manteniamo qualora appunto le cose non dovessero andare come nella nostra previsione, ma assolutamente diciamo questo è quanto. Per quanto riguarda gli indici andiamo a selezionare l'indice italiano che è quello che stiamo seguendo un po' di più, c'è stato questo primo diciamo piccolo ritracciamento nella giornata di oggi e a mio avviso comunque il trend rialzista non è assolutamente compromesso e quindi in realtà qualunque quant'anche i prezzi dovessero tornare sull'area 22.500 sono ottimi livelli per incrementare le posizioni rialziste che già abbiamo preso sul primo storno dopo il primo rialzo. Quindi qui si potrà vedere probabilmente un ritracciamento in area 22.500 da lì dovremo secondo me metterci nuovamente a rialzo per andare a prendere i target in area 24.000. Con questo vi ricordo l'offerta formativa di investire.biz la trovate su corsi e webinar cliccando su questo tasto c'è il webinar di lunedì, forex e indici come operare in trend e contro trend sono entrambi corsi gratuiti e poi ci sarà il mitico trading live di giovedì pomeriggio appunto con me. Chi fosse interessato alla formazione vi ricordo il sito formazionetrading.com dove trovate corsi e curiosità appunto oltre a eventi e servizi insomma a disposizione appunto su questo sito. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.